Buongiorno a tutti, oggi è il primo febbraio 2017, ci troviamo in pieno centro a Campobasso in via Palumbo. Con questo video voglio denunciare lo stato vergognoso in cui versano i gabinetti pubblici della città capoluogo di regione. Siamo in pieno centro, quindi questi gabinetti potrebbero, uso il condizionale, essere meta di chiunque. Entriamo insieme. Negli anni la situazione è peggiorata, io me la ricordo 40 anni fa, questa situazione era già precaria ed ecco qui cosa appare agli occhi di chi tenta di utilizzare questi bagni. Tralascio la puzza che c'è all'interno. Vengono magari anche puliti saltuariamente e sommariamente per questi gabinetti, però guardate la situazione. Questi sono i pisciatoi che si usavano negli anni 70. Se si mettono due o tre persone lì a urinare si pisciano addosso l'uno con l'altro. Guardate la fatiscenza, tralascio anche le scritte che per carità, colpa di vandali che vanno condannati. Guardate il soffitto di questi gabinetti, qua se ne crolla tutto da un momento ad un altro secondo me. E queste erano le cabine, i bagnetti chiusi, che una volta magari erano anche dotati di serratura. Guardate le condizioni. Non tocco la porta per non prendere qualche malattia. Se per voi questa è una situazione normale, adesso io mi chiedo, ma gli amministratori della città di Campobasso, ste cose le vedono o no? Come le vediamo noi? Ci meritiamo questo. Guardate questo locale. Peccato c'è poca luce. C'è una latrina, una puzza indescrivibile, cartoni, legna, lattine, bottiglie, c'è di tutto. La cosa bella è che sono aperte ste porte. Qualsiasi persona può entrare lì dentro se viglia qualche malattia. Ora già sto immaginando la soluzione che prenderanno con molta probabilità se magari qualcuno, qualche amministratore vedesse sto video. Chiudono tutto ed è fatta finita. Allora io dico, con tutte le tasse che paghiamo, credo il minimo, un minimo decoro ci dovrebbe essere. Qui non è da chiudere la struttura o di pulirla meglio. È proprio da ristrutturare perché fa tutto schifo. È fatiscente ed antigenico. Guardate che condizioni. Il soffitto è un qualcosa di indescrivibile. E ripeto, voglio tralasciare la puzza e le scritte che ci stanno. È il resto che non funziona. È assolutamente inaccettabile. Nel 2017 è una situazione del genere. Mi ci viene proprio da incazzare. Io non ci posso credere. Se il cittadino si merita una situazione del genere, guardate qua, non si capisce che è sta cosa bianca. Che scopo abbia? Non lo so. Calcinaccio ovunque, muri distrutti. Cioè lì non è l'incuria. Lì è proprio che è fatiscente la struttura. Cioè senza parole. Guardate questo è un localino forse adibito, che sfrutterà la persona adibita a tentare di venire a fare le pulizie qui. Quel poveraccio, quella poveraccia che ha stincarico, che secondo me per lo schifo neanche ci mette piede. Sono veramente incazzato. Cioè se il cittadino con tutte le tasse che paga, puttana miseria deve vedere una cosa del genere. Non ho parole. Un ringraziamento a tutti e al prossimo video. Ciao.